bentornati su cper tv lunedì 31 agosto 2020 oggi il vuode c'è chi una girl per chi non la ricordasse sono mille metri raw 30 pull up 50 thruster e 20 oppure 15 kg pesi scalature come sempre sulla grafica qui di fianco per oggi è tutto ci vediamo domani per un altro vuode insieme su cper tv